Allora intanto, sempre per quanto riguarda i migranti, la Polonia ha annunciato che introdurrà controlli alle frontiere sui veicoli in arrivo dalla Slovacchia per combattere una rotta migratoria illegale. Allora Ricciardi, vediamo se dico bene, riassumo così la vostra posizione, siete stati molto critici nei confronti del governo per la gestione dei migranti, però anche voi dite che non è che possiamo accoglierli tutti in Italia. Questa è un po' la sintesi, peraltro io non vorrei dimenticare, ma questo lei lo sa benissimo, che quando eravate al governo con la Lega e il governo giallo-verde avete firmato congiuntamenti i decreti di sicurezza di Salvini, porti chiusi e via dicendo, no? Guardi, Salvini e la Meloni si stanno dimostrando i più grandi truffatori della politica italiana. E perché? Perché hanno fatto una vita politica parlando di blocco navale, via gli scafisti, via la furia immigrazionista, quando saremo al governo noi andranno tutti a casa. Arrivati al governo loro il record degli sbarchi in questo paese è incredibile, 140.000 persone, duplicato rispetto allo scorso anno. Sono arrivati al governo, hanno fatto un decreto cutro vergognoso perché sono andati a strumentalizzare nel luogo di una tragedia. Ad aprile hanno chiesto lo stato di emergenza per poter operare in termini appunto di emergenza su questa vicenda. Gli sbarchi continuavano ad aumentare. La Meloni è andata in Tunisia a firmare un accordo che doveva essere miracoloso. E gli sbarchi sono continuati ad aumentare. Adesso con la tragedia che si sta vivendo a Lampedusa ci hanno spacciato che la soluzione erano questi CPR che a capienza massima arriveranno a 3-4.000 persone. Noi abbiamo 140.000 persone sbarcate quest'anno. Oggi a massima capienza, se tutte le regioni lo faranno, massima capienza sarà questa. Quindi i numeri sono questi. Adesso oggi parliamo dell'ONG e su 140.000 sbarcati sa quante ne hanno presi le ONG in quest'anno? 5.000. Quindi va bene, le ONG, sbagliato il governo tedesco, non vanno bene. Tutto quello che vogliamo, invece che 140.000 non esistessero le ONG, ne avremo 135.000. Questa è la realtà. Questi non sanno che pesci prendere. Perché la Meloni parlava di blocco navale. Qualcuno parla di redistribuzione in Europa. Si cerca di parlare all'Europa quando? Un giorno si litiga con la Francia, un giorno con la Germania, un giorno si invita la Le Pen a Pontida, un giorno si parla con Orban. Ma stanno veramente scherzando su un tema che doveva essere la loro principale missione. Perché basta vedere, ribadisco, tutta la campagna fatta dalla Meloni e da Salvini quando erano all'opposizione e basta vedere quello che sta succedendo ora. che se fossero loro all'opposizione, in questa situazione, io non conterei gli interventi. Farebbero fuoco e fiamme, dice lei. Ma è sempre evidente. La Meloni, contate i tweet che ha fatto su blocco navale subito. Ma perché quando è arrivata il governo non ha fatto il blocco navale? Posso chiederle, intanto voglio dare conto di una cosa, il capogruppo alla Camera dei Fratelli d'Italia Foti dice la spinta migratore in questo momento è nettamente superiore al passato. Nessuno d'altronde avrebbe potuto prevedere eventi come il colpo di Stato in Niger, la crisi del grano in seguito all'invasione russa in Ucraina, c'è il Sahel in subbuglio. Sono tutti elementi e ne mancano tanti altri che dimostrano la complessità del momento. Cioè dice, attenzione, l'anno scorso c'era una situazione, due anni fa c'era una situazione, adesso ce n'è un'altra. Buongiorno che la situazione è complessa, lo dico a Foti, lo dico a tutti gli esponenti del centro-destra. Ma quando, riparisco, quando dicevano che loro avrebbero mandato a casa tutti, che ci sarebbe stato il blocco navale, lì non era complessa la situazione. Sfugge la proposta di 5 Stelle ancora, non ho capito la soluzione di 5 Stelle. Allora, sfugge, dico. No, no, ma sfugge, ma scusate. Arrivo, arrivo, cos'altro, aspetta, facciamo un attimo. L'unica persona che ha redistribuito e ha cominciato una redistribuzione di migranti in Europa è stato il Presidente Conte. Salvini, quando era ministro, su dieci vertici che parlavano di immigrazione, è andato a uno, gli altri nove li ha disertati. Conte, in quel momento lì, doveva tappare le falle che creava il Ministro Salvini con le sue sparate continue quando era al governo. Quindi questo ha dovuto fare Conte. Ma l'unico momento in cui si è avviata la redistribuzione di migranti in Europa è stato durante il governo Conte nel luglio 2019. Un percorso che era stato avviato e che poi, chiaramente, è successo quello che è successo, è caduto il governo, eccetera, eccetera. Se lei mi dovesse fare un'estrema sintesi, cioè qual è la politica del Movimento 5 Stelle di fronte a questo fenomeno? Non conosciamo. La redistribuzione non ho preso. No, 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 mi ero chiedo per capire. La redistribuzione non ho preso. Io gliela dico, io gliela dico. Poi però mi dovete dire qual è la politica del governo sull'immigrazione. Perché io sento il blocco navale. Perché la Meloni dice blocco navale, lei redistribuzione non ne parla. Dice non è vero che chi arriva in Italia arriva in Europa, non bisogna difendere. Sì, ma qual è la vostra ricetta oggi, però? Spiegateci qual è la ricetta. Numero uno ci siete voi al governo... Perché al di là di andare Conte al processo a Palermo a dire che si è distratto quando Salvini portava avanti i decreti, non abbiamo capito la concretezza di Conte, francamente. Allora, la concretezza è che questo è un fenomeno che va a ondate, è molto complesso, un anno ce ne sono centinaia di migliaia, un anno meno. Bisogna governare l'immigrazione in Italia con un percorso anche statale di collaborazione con le regioni dove si assumano persone che facciano dell'accoglienza e dell'integrazione un lavoro. Quindi bisogna assumere mediatori culturali, avvocati, cuochi, infermieri, traduttori. Che accolgano queste persone, ok? Qui in Italia, lei dice. Bisogna assumere italiani, non lasciare spazio. Non lasciare spazio. Mi fate dire una cosa. Tre volte la proposta, ora me la fate dire. Non lasciare alle cooperative la gestione, perché le cooperative più persone ci sono, più guadagnano. Una volta c'erano le cooperative rosse, adesso ci saranno le cooperative nere, perché i CPR saranno dati in appalto a delle cooperative che guadagneranno sulla permanenza di questi migranti. Ho capito però io forse, chi li dovrebbe gestire dal suo punto di vista? Non le cooperative rosse, non le cooperative nere, chi li gestisce? Allora, lo Stato deve capire che insieme alle regioni bisogna uscire dallo stato d'emergenza. Guardi, le prefetture, lo sa cosa fanno? Le prefetture quando si trovano ovviamente a dover accogliere in una notte, devono trovare degli spazi, ci sono degli alberghi che non lavorano più come alberghi, prendono queste persone, ovviamente vivono in condizioni disastrose, quando poi gli alberghi non danno l'accoglienza che dovrebbero avere queste persone, si chiude un occhio, perché l'albergo mi ha salvato quella notte, mi ha accolto delle persone adesso. Allora, questo Stato deve finire, bisogna istituzionalizzare un sistema d'accoglienza, ripeto, che vada ad assumere italiani che facciano di questo un lavoro, perché questo problema e questo fenomeno esisterà sempre. Ma questo c'è, mi diamo un'ultima risposta. Quindi, regolarizzare gli immigrati, in modo indifferenziato, vi regolarizziamo tutti. Non riesco a fare questa cosa. No, però, Pancani, in Europa poi si deve fare politica. Ma io trovo, però mi scusi, ma mi sembra assurdo che io debba spiegare una posizione e posso starci anche mezz'ora a spiegare una posizione. Ma così ci viene di ostaggio. Quando sento che c'è un governo, c'è un governo. Ma che sia una questione che deve risolvere il governo, non c'è dubbio. Io non è che è il governo che governa. Però, scusi, io devo farle un'altra domanda. Sì, prego. Ho capito, diciamo, sul fronte italiano lei che scenario ipotizza. Voi, mi pare, abbiate criticato molto duramente l'accordo con la Tunisia, con Sayed. Ma se non si fanno accordi bilaterali, e dobbiamo farli con chi governa quei paesi, non è che possiamo scegliere il presidente di turno, il capo di stato di turno. Come si fa? Cioè, voi siete contrari agli accordi bilaterali. Scusi, sta funzionando questo accordo bilaterale. Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. I soldi, mi pare, non siano ancora arrivati dell'Europa. Qualcosa è arrivato. Allora, gli accordi li deve fare. L'Europa non li possono fare. Se l'Italia fa un accordo con la Tunisia, ma vanno fatti a livello generale... Infatti era la Commissione europea che se ne occupa. Allora, con la Guinea c'è l'accordo bilaterale. La maggior parte delle migrazioni sta venendo dalla Guinea. Gli accordi bilaterali se ne chiude, quando va bene, uno ogni x anni. Sono difficili, ma certo. Quindi, l'accordo bilaterale portato avanti da un paese, da un paese perché l'ha portato avanti un paese, poi se vogliamo dire che c'era il cappello della von der Leyen, c'era il cappello della von der Leyen, ma l'ha portato avanti un paese. Non funziona, ma lo stiamo vedendo che non funziona. Vabbè, chiarissimo. Lo stiamo vedendo che non funziona. Il problema, e su questo siamo d'accordo con chi se ne occupa, all'interno anche di quelli che sono ambienti super partes che riguardano la politica economica finanziaria, che riguardano anche l'approccio che ha la Chiesa su questa materia, dobbiamo renderci conto di una cosa fondamentale. Non si fermerà per i prossimi anni questo tipo di migrazione se noi non interveniamo con le risorse europee per portare i paesi del Nord Africa e una parte dei paesi del Medio Oriente a livelli economici accettabili. Questo è un lavoro però di media, lunga, durata. Ma non mi sembra che questo sia l'approccio che l'Unione Europea e anche la stessa Germania sta portando avanti. Se non si risolve il problema della pancia, difficilmente si arriva all'intelletto. Però ricetta deve essere un tweet e poi la faccio riparlare dopo. Ma non si può dire che non capisco perché succede questa cosa. Succede perché c'è un trattato di Dublino. Lo volete andare a modificare? No. La Meloni ha detto che non è quello il problema. Non è solo quello il problema. Ha detto che non è quello il problema, ma vi parlate in maggioranza. Bisogna fermare le partenze. Bisogna dare una risposta alla pancia di che migra. Dovete smetterla di fare propaganda sulla pelle di questo paese. Siete al governo, dovete governarlo. Avete uno stimo maestro che è stato conto che in questo come propaganda è un problema. Pubblicità. E truffe elettorali ne ha fatte più delle altre. Una famiglia quest'anno ha speso in media tra i 300-400 euro di libri per mandare a scuola una ragazza o un ragazzo in prima superiore. Il governo quando interviene in legge di bilancio. Cioè tre mesi dopo... Però ieri c'è stato un pacchetto di un miliardo e 300 milioni. No, 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 non dico i libri. Caro bolletta, trasporti pubblici, caro benzina. Allora, i libri, il problema ce l'hanno ora, le famiglie l'hanno affrontato ora. Il governo forse a dicembre farà qualcosa. Come con l'Emilia Romagna. L'alluvione è stata a maggio. La piattaforma per i ristori viene attivata ora. O verrà attivata e sarà funzionante entro novembre. Questo è il tempismo di chi doveva dare 1000 euro con un click in pandemia. Quindi l'ipocrisia di dire, di fare questi blitz come a Caivano in queste zone che durano mezza giornata e poi non intervenire su quelle che sono le cause e colpire sistematicamente le classi economiche più deboli. Perché questo governo ha un disegno ben preciso che è colpire le classi economiche più deboli e poi non ci si può lamentare se quelle che abbiamo visto in questo servizio sono delle meravigliose e splendide eccezioni. Perché purtroppo ci vuole l'eroismo. Invece dovrebbe essere la normalità intervenire in contesti sociali ed economici così difficili. Ma se si sono criminalizzate le persone per anni dicendo che chi non andava a lavorare in quei posti lì era perché voleva stare a casa sul divano e invece probabilmente è perché non ha un'opportunità di lavoro. Sono stati criminalizzati per anni queste persone e oggi però si fanno i blitz. Posso chiedere che le persone che abitano in questo posto...